Salve a tutti, allora l'idea di questo talk è presentarvi un po' di soluzioni della mia esperienza anche lavorativa e come contributor riguardo WordPress, però una piccola introduzione per farvi capire perché ho portato questo argomento. Allora io ho una web agency dove ci occupo principalmente di WordPress, sono tra le organizzate del meetup di Roma e anche di Terni ultimamente di WordPress, faccio parte della comunità nazionale, sono tra i core contributi dalla 4.3 di WordPress, diversi progetti e spiego anche agli altri che vogliono contribuire a WordPress come programmatori, come partecipare, sono anche tra i revisori delle traduzioni e nel tempo ho partecipato a diversi progetti anche come sviluppatore per la comunità per contribuire a WordPress. Ok, partiamo subito dal principio, non so quanti di voi conoscono Hacker Journal, io ci sono un po' cresciuto, era la prima moto, no? Prima di la DSL, riviste, quindi a me è sempre piaciuta la definizione che era in tutti i numeri e quindi l'ho voluta mettere come introduzione perché qui siamo nell'ambiente proprio hacker nel senso puro, quindi già un poco per ricordarci da dove sia partiamo. Il concetto vero è che a noi ci piace capire le cose come funzionano, modificare a nostro piacimento e presentarla agli altri perché a noi ci piace questa cultura aperta di condivisione delle informazioni, di imparare, di divertirci, di smontare le cose. Quindi partiamo da questo presupposto su questo talk perché ecco poi ci stanno le slide che si mettono contro di me, ok, io sono partito dal punto di vista che i hacker sono dei professionisti perché noi facciamo bene il nostro lavoro perché ci sono molte sfaccettature di fare l'hacker, non pensiamo a quello televisivo e quindi non pensiamo proprio a quello televisivo in tutti i sensi ma pensiamo agli hacker come professionisti perché sanno quando c'è qualche problema sanno dove mettere le maniche, è sempre quello che serve. Il tecnico di turno e quindi io sono fatto un'analisi partendo proprio dallo stile perché gli hacker sono gli angela del mondo e ti perché gli hacker sono quelli che fanno articoli, pubblicano di tutto, spiegano, rilasciano il codice, fanno i video dimostrativi, di tutto sono stati rilasciati negli anni, di qualunque cosa, per quello noi oggi siamo qui, siamo aggiornati, siamo informati, vogliamo saperne di più, vogliamo provare anche noi. Quindi io l'ho vista molto, noi ci piace divulgare quello che facciamo, quindi ho detto partiamo un attimo tentando perché bisogna saper creare un sito WordPress e anche metterlo a posto, perché sono tutti i due lati della medaglia. Quindi quando mi sono detto ma la gente dice ma veramente mi paragoni gli angela con i professionisti? Sì, secondo me sì perché qui con tanti talk ci sono e dimostrano questo piccolo fatto che dobbiamo essere un attimo seri sul fatto che a noi ci piace vedere come funziona la tecnologia e migliorarla. E questa è la prima regola che funziona il hacker, noi buchiamo e poi documentiamo e spieghiamo come va sistemato. Quindi dobbiamo entrare in questa filosofia, perché tanti pensano che WordPress è un giocattolo, tutti si buca facilmente, è un programma schifoso, perché ci fanno le peggio cose, essendo così semplice ci fanno le peggio cose di nuovo. Quindi partiamo un attimo con il momento cultura dopo tutte queste scherzi così, queste citazioni. Allora queste sono delle statistiche di V3TX che utilizza la comunità WordPress per dire qual è il mercato di WordPress. Ad oggi abbiamo superato il 31% dei siti internet secondo questi siti hanno WordPress sopra. Quindi dici cacchio, è un bel mercato, c'è di tutto. Quindi se io ho un po' di conoscenza su questo, diciamo che avere delle opportunità lavorative, imparare, male non fa, perché ce ne sono tanti. Ce ne sono tante diverse tipologie, qui fa degli esempi di plugin, eccetera. Quindi già questo dato ci fa capire che insomma può essere un giocattolo se è trattato male, ma se è utilizzato bene può essere una buona soluzione. Quindi partiamo un attimo, la prima passaggio che fa un utente normale quando si tratta di mettere in sicurezza un sito. La password ovviamente, che noi sappiamo quali sono le password più classiche, noi lo facciamo abbastanza bene. Sì, e dobbiamo ricordare ovviamente di mettere una password difficile perché WordPress di base l'ha messo da poco questa funzionalità. Però la domanda che si fa a un utente normale, che altro deve mettere in sicurezza? A me basta la password, perché mi propone questo come sicurezza di base WordPress, perché sta a noi poi modificarla a seconda delle nostre necessità come qualunque soluzione. Quindi un utente normale si preoccupa solo di questo ormai. E questo è il primo grimaldello che le persone tentano di bucare. E spesso quali sono i bug di sicurezza? Perché un anno di esperienza, vedendo in giro, mi sono detto quali sono i bug più comuni che si trovano in WordPress, che vengono utilizzati da Iagra, a cui bisogna mettere una patch, una toppa. Beh, la primissima ovviamente è la sanitizzazione. Direi che tutti lo dovremmo sapere, ma tanti non ci pensano. Il secondo, spesso delle cose che dovrebbero essere solo per utenti loggati, ovviamente sono esposti. Un altro, anche comportamenti no standard, che sfortunatamente nelle soluzioni premium di plugin, presi esempio da Team Forest, sono il classico esempio. Spesso non utilizzano per niente gli standard WordPress, quindi non si appoggiano al framework interno che affigura una certa sicurezza di base, e quindi fanno tutto da zero. Dalle interfacce che sono fatte da JavaScript, quindi le STPI che non è detto che siano protette, a cose personalizzate che riestendono di nuovo, rifanno le stesse cose del framework, tipo rifaccio il RRM per gestire il database di WordPress, ma già c'è la WordPress, perché devo farmi uno da zero, che è detto che potrebbe avere problemi. E la implementazione di nuovo di funzionalità specifiche che già WordPress offre proprio nell'interfaccia, me ne faccio da zero. Spesso sono i luoghi dove si trovano dei bug dentro WordPress, principalmente nei plugin. Quindi se uno già sa queste cose, si trova con un plugin che sa che è premium, e potrebbe avere queste caratteristiche di vulnerabilità in cui uno vuole attaccare. Il secondo punto è che mi sono detto, ok sono un utente, non lo so di questi bug, non sono un programmatore, non sono un tecnico, ma un amministratore che è quello che chiamano alle due di notte, mi hanno bucato il sito di sistemarlo, che è successo ieri, abbiamo fatto un backup di 30 giga di un server, non ha finito stanotte. Io ho detto, vado in ferie, ho lasciato tutto così. Però ecco, sono le classiche regole dell'amministratore di sistema, quali sono quelle che deve eseguire un amministratore di sistema che ha a che fare con WordPress? Per dormire, che nel mio caso è stato quello, è bloccare l'accesso a WP Admin, ovviamente, perché si può fare, si può fare a tempo, tutte queste soluzioni qui, è la prima regola, perché tutti gli scanner, eccetera, attaccano qui ovviamente, perché è la pagina di accesso. Il secondo ovviamente è bloccare il file browsing dei web server, perché tali spesso gli hosting più scadenti non ci hanno proprio, non se lo pongono il problema. Il secondo ovviamente è aggiornare WordPress e plug-in. Ci sono tanti siti che non aggiornano per niente. Tanti, ma tanti, tanti, tanti. Si vede poi dalle statistiche, perché se poi prendete un plug-in, voi potete vedere quali sono pubbliche le statistiche di quale è la versione in uso. Quindi potete dire, ok, il 30% degli utenti di questo plug-in, che ce ne ha 10.000, hanno la 1.3, ma l'ultima è la 2. Potete vedere obbligamente sul sito del repo. Quindi verificare anche spesso gli aggiornamenti della roba premium, perché ci sono diverse soluzioni con cui vengono rilasciati. Anche in bundle con i temi, gli aggiornamenti sono indifferita, o non arrivano mai. Qui spesso ci sono molte vulnerabilità. In passato è successo molto spesso di questa tipologia di buggy, perché non venivano aggiornati i plug-in premium. Poi ecco, ci sono altre tipologie, ovviamente, bloccare delle interazioni per gli utenti non loggati, perché la maggior parte dei siti spesso non hanno bisogno dell'area commenti, sono solo siti di vetrina, ma forse sono di e-commerce, quindi non hanno bisogno di avere commenti aperti a tutti, sono per gli utenti loggati. Quindi spesso è utile anche bloccare tutte queste cose, perché come vi ho detto prima, se non ci sono sanitizzazioni della roba esposta, io blocco gli accessi da questo punto di vista, almeno dormo meglio. Ovviamente verificare i permessi di file. WordPress ne ha bisogno di certi tipi. Ci sta chi, quando fa gli aggiornamenti, li rimette come si deve e poi li li blocca, chi usa un server di staging o di produzione, però questo è un dettaglio molto importante. Perché WordPress fa l'aggiornamento automatico, quindi ha bisogno di permessi di scrittura. Ovviamente bloccare i bot e anche degli IP, perché c'è chi fa DOS, come è successo a diversi clienti, una CDN, poi blocchi i bot direttamente di web server, che permettono di dormire un po' più tranquillamente. Ovviamente la protezione per i brute force, ce ne sono diverse tipologie. E poi anche rimuovere l'utente numero uno, perché è il primo che viene attaccato, si può creare il numero due, lo chiami con lo stesso modo, ma già rimuoverlo vi assicura di togliere molti scanner automatici sul vostro sito. E ovviamente bloccare, se non vi servono, le API, XML e il resto che sono attivi di default. Quindi queste si possono bloccare, se non vi servono, sta a voi, potete limitarle, solo le letture, eccetera. Ci sono diverse soluzioni a seconda delle vostre necessità. E quali sono le regole d'oro per un hacker per attaccare un zio? Prima di tutto verificare le versioni dei plugin. Secondo, verificare se ci sono, o creare delle versioni infettate di plugin e temi. Tanti prendono il tema premium, solo scaricali su un sito Warets, però c'è chi ci mette dentro una cella, una C99, non so, ci mettono queste soluzioni integrate dentro, la gente scarica e installa, e poi se lo trovi sul sito in produzione, hai libero accesso a tutto. Quindi questa è una delle prime cose da verificare, se ci sono oppure no. E per un hacker ovviamente al contrario. Ecco, investire tanto tempo su questo file qui. Questo file qui in Wordpress è molto importante, perché serve per gestire le chiamate AJAX. E lo utilizzano molto male. Quindi può essere utilizzato per generare i DDoS, perché c'è chi programma veramente male, ci sono dei plugin che interagiscono male a questo file. Questo file permette di avere delle azioni per gli utenti loggati e non loggati. E anche per verificare nonce. I nonce in Wordpress sono, diciamo, le chiavi di sicurezza che vengono generate on the fly per ogni specificazione. Sul database Wordpress vengono salvate come sessione quando tu invii un foro. Per evitare le CSRF, che utilizzano pesantemente in Wordpress, non è detto che tu non inventano una cosa in AJAX, le utilizzino. Verificare i plugin, non smetterò mai di dirlo, i plugin premium che non sono aggiornati. Perché non sono aggiornati. Tipo scade di licenza, non lo rinnovo, e quindi può darsi che c'era un buco di sicurezza, queste cose così. Verificare per le case, spesso è successo anche nel Wordpress, se trovate difficili vulnerabilità a utilizzare, però ci sono. E stress test, la maggior parte dei titoli dopo un po' muore, dipende dall'hosting. Quindi se uno interagisce, vuole mettere sotto stress il server per vedere che errori genera, può abusarne pesantemente e verificare tutte queste cose. Però noi siamo AJA, noi ci piace smanettare, il termine tecnico da mia parte usa così. Quindi vediamo un attimo gli strumenti che ci sono a disposizione per automatizzare tutta questa parte qui. Ok? Strumenti online, poi le slide sono su internet, vi gira il link, eccetera. Questi sono gli strumenti che permettono di avere già un'idea sulla situazione attuale. Il più interessante secondo me è questo qui, perché è il database tipo CVE dedicato ai plugin, a Wordpress, temi. Quindi avete l'elenco di tutte le ultime bug scoperti e anche se ci sono exploit, tutto quello che vi pare lo trovate qui. Questo è utile per sapere se tipo ha SSL, se c'è qualche sistema di criptografia attivato del web server, permette di avere un'idea anche su quanto è il livello di qualità, di configurazione della macchina, insomma. E questo vi permette di avere qualche idea su Wordpress e poi anche lo stress test di nuovo. Però sono tool web, a noi ci piace lavorare al locale. Quindi passiamo un attimo ai strumenti per i quelli tagger che sono quelli da linea di comando, che sono anche spesso i più interessanti. Il più famoso è WP Scan. questo permette di enumerare, fa proprio un elenco dei plugin che ha identificato sul sito, vi dice anche le versioni e se trova non riesce a identificare la versione stessa. Vi dice, questo plugin potrebbe avere questa vulnerabilità qui perché usa il database esterno. Vi permette quindi di verificare anche le configurazioni web server in automatico e altre informazioni. Ha moltissime opzioni. Di numerare gli utenti, perché una volta che avete l'elenco di utenti decide, riattacco su questo qui perché so che lo conosco dal vivo, è uno che mette la password stupida, io l'elenco degli utenti, ci investo del tempo sopra. Perché lo strumento emette anche di fare il brute force. Ario gli date l'utente e lui da solo prova a fare un brute force. Permette anche di testare e di fare delle richieste con il throttling. Spesso i server non resistono molto a lungo con lunga scadenza, eccetera. Ovviamente di simulare tutte queste cose qui che possono sempre darvi degli errori di sistema che quando uno fa un'analisi male non fanno. Ovviamente di fare un random dei user agent perché spesso i plugin di sicurezza riescono a identificare quando è uno strumento nelle di comando. Questi insieme spesso li utilizzo quando mi trovo a fare un'analisi di un sito WordPress anche per i clienti che so che non è stata creata e così mi faccio un'idea da fuori prima di parlare ok discutiamo ma è preventivo mi faccio un'idea sulla qualità del sito senza avere un accesso back-end. Già ho un'idea prima di mettiamoci a tavolo qui da rifare non è da rifare io già così ho un'idea. E ovviamente una chicca questa è fatta in rabbi thread multiply quindi se voi volete fare cose in contemporanea voi lo ammette di fare. E poi questa è anche una soluzione con Docker perché è rabbi quindi non tutti vogliono avere quella roba nel computer. Questo è un esempio di utilizzo come vedete è molto semplice gli date il sito in automatico gli passate il parametro in automatico secondo me con questi due comandi già avete un'idea sullo stato di salute del sito cosa e come non va. Questo è un altro tool che è fatto in Python più da guardia che ha molte delle funzionalità di WP scan però è scritto in Python che è già più famiglia. Poi ecco si focalizza specialmente sul codice dei plugin perché può verificare questo plugin verso un repo e può anche fare una versione se ha delle vulnerabilità di SSS sono analizzando il codice che è sul repo pubblico è una chicca che non è poca insomma. Poi ecco pure questo fare brute force anche su le API che tanti lasciano aperte perché nessuno solo sa che c'è questa funzione però io sono già finito sono solo questi due strumenti secondo me che servono per capire un po' come poter accedere a informazioni di WordPress senza avere l'accesso perché dopo tutto un CMS è open source quindi questi comportamenti sono molto standard quindi già chi conosce il core e ha già queste informazioni può diversirsi per fare un'analisi sulla situazione attuale quindi secondo me non sono necessari altri strumenti ovviamente voi potete utilizzare tutto quello che vi pare per fare XSS ovviamente perché è un sito web quindi utilizzare tutti gli strumenti che volete per un sito web questi che vi ho appena detto sono quelli specifici che vi permettono di avere più informazioni del normale perché con uno potete sapere questo plugin è fatto un po' male uso uno scanner per l'XSS a quel punto per le SQL injection quindi queste secondo me sono le cose divertenti che ho voluto mettere in coda su questo talk non so quanto tempo mi è rimasto queste sono delle chicche che ok sono andato troppo veloce scusate col caldo mi sono fatto prendere questa è una delle chicche che ho trovato su un articolo cioè questo repository qui ho caricato proprio degli exploit che ho trovato su dei siti miei o che mi sono trovato che sono stati hackerati quindi qui trovate di exploit per tanti drupal wordpress jumla di gente che ha trovato su github io l'ho caricato un po' ogni hacker si fa la sua collezione insomma di queste cose l'ho caricato online era inutile tenersela per sé questa è una delle chicche che ho trovato su un articolo che spiegavano dei dei siti hackerati con questo questo è un esempio semplicissimo di come si può fare una vector in wordpress utilizzando il work interno qui abbiamo che viene caricato wordpress viene cancellato il file stesso per sicurezza in modo tale che un domani nessuno come si è entrato boh non ci sta nessuna traccia del file vengono caricate dei file che permettono di caricare il framework di wordpress senza tutto quanto l'ambaradam plug-in eccetera perché ci sono anche plug-in di sicurezza diciamo di eccetera come l'utente numero uno per quello va cancellato perché di solito numero uno è l'amministratore potrebbe essere il settimo in quel caso non funzionerebbe e diciamo che devi fare login automatico perché diciamo di prendere nickname e di fare login con quello postando un cookie soltanto con queste informazioni interne del sito questa è una backdoor semplicissima da fare wordpress che ovviamente non è che me la metto in casa da solo però spesso può essere utile sto lavorando su un sito che non ho la password amministratore ma c'è SFTP io me la ricordo apposta di quello perché certe volte con dei clienti capita che non hanno mai l'accesso amministratore non chiedimi perché ma succede questo è un esempio semplicissimo di cose che ti permette di fare il framework wordpress se uno lo conosce sono i metodi utilizzati internamente per funzionare però questo è il caso di una backdoor che in automatico permette di essere già loggati entro wordpress ovviamente bisogna averlo caricato però insomma è già il primo passo già saperlo e poi mi sono detto ok adesso ho detto come si aghera senza farvi vedere niente bello è quello adesso gli dico come si sistema un sito dopo che è stato agherato perché succede anche quello ovviamente prima di tutto il trucco è scaricare tutto il locale credo che la soluzione è base di tutto perché si fanno un po' di controlli anche se il sito pesa 30 giga poi ecco si verificano i file perché spesso siccome la cartella upload è quella spesso che ha più permessi più liberi perché è quella ovviamente per caricare file quindi un'analisi qui se ci sono dei file PHP strani perché spesso vengono piazzati lì perché la gente non ci guarda quindi già un primo indizio cercare qui permette di avere qualche idea perché c'è chi poi nasconde dei file dentro wordpress ma già partiti da qui gli può dare un'idea qui questa è una chicca perché spesso io verifico anche la data di ultima modifica siccome wordpress fa l'aggiornamento e sostituisce tutti i file allo stesso momento è un file verificato tre mesi dopo l'aggiornamento interno di wordpress c'è qualcosa che non va quindi è uno dei trucchetti comparati nel tempo perché wordpress non lo farebbe di suo quindi ho un hacker o qualcuno che ci ha messo le mani su cosa o potrebbe essere un file nuovo che viene mimetizzato insieme a altri perché c'è anche quello che do un nome simile poi come si fa su windows localhost scritto con la l minuscolo uno questi trucchetti così si fanno anche ovviamente qui poi ecco il trucco è scaricare una versione pulita di wordpress ogni plugin ogni tema in modo tale che poi parti da zero perché per esempio a me capita un sito in cui avevano messo in ogni file un codice in base 64 uguale che veniva quindi passato ed elaborato il sito ovviamente se deve caricare tutti questi file php1 dopo l'altro muore quindi in questo caso qual è la soluzione di modificare ogni singolo file quindi ho scaricato tutto pulito e ho rimesso tutto quanto quindi il tempo è importante verificare ovviamente spesso quando faccio un diff tra una versione di wordpress pulita o un backup vecchio che avevo con quella attuale vedo se ci sono delle modifiche perché se io solo aggiorno il sito i find devono essere quelli perché ci sono delle differenze potrebbe essere un aggiornamento è verificabile se è un aggiornamento del plugin ma se non lo è per esempio questo è un caso che mi è successo come dicevo prima di un file mimetizzato con questo nome in mezzo agli altri e lo riconoscio soltanto facendo un diff perché era un file che non ci doveva stare non esiste con quel nome lì e quindi spesso come ho detto ci sta anche chi appende queste stringhe di codice criptate in tutti i file in idemi warrets queste cose così è una tattica comune di modificare le roba warrets sui siti ci sono ovviamente dei plugin che migliorano la sicurezza io preferisco la team security che offre già delle soluzioni base che permettono di cambiare un po' delle opzioni e delle situazioni che ho detto all'inizio il secondo invece è interessante perché oltre a tutti e due hanno la versione premium il secondo è che in automatico rilascia le patch di sicurezza verifica tipo esce una vulnerabilità di wordpress ancora uscita l'aggiornamento in automatico loro rilasciano a tutti gli utenti che hanno il piano premium c'è un plugin che c'è una vulnerabilità loro hanno i database rilasciano l'aggiornamento quindi intervengono in tempo reale e questo viene utilizzato ovviamente in ambiti un po' possiamo dire enterprise perché è un costo diverso sono quelli che spiegano subito se ci sono problemi di sicurezza hanno un bel blog hanno tutte queste cose item security permette invece di bloccare tutte quelle opzioni che ho detto prima e c'è la versione che funziona benissimo e la prova ovviamente implementa delle cose in più un po' più tecniche specifiche però già con uno di questi due perché insieme mai come gli antivirus se ne usa uno di sicurezza non due che già rallenta nel sito ne metti due è proprio messo ma arrivata alla fine e praticamente io non mi ho detto niente ho detto solo delle buone idee regole di gestione di un sito che si può applicare su qualunque CMS perché dopo tutto vuoi prestare un CMS è un CMS il punto che la gente lo utilizza male io non ho visto tutti i tipi noi spesso per assistenza ci chiamano quando hanno a creare i siti dobbiamo metterli a posto non avete idea delle immondizie spesso che si trova il punto è che bisogna partire in modo aggettivo stiamo parlando di un software che viene abusato da chi non sa niente quindi bisogna partire in modo aggettivo e analizzare ogni singola cosa quindi spesso fa parte di un insieme di tecniche e di metodologie per verificare se si è aggerato e messo in sicurezza perché essendo un CMS open source chiunque può trovare il modo di hackerarlo non è che è una rivoluzione basta che faccio un plugin con un bug chi se ne accorge ovviamente oggi il team di sicurezza dei plugin è molto più attivo se viene riconosciuto che c'è un aggiornamento specifico di un plugin sul repo pubblico gratuito che ha un bug di sicurezza e viene bloccato l'aggiornamento non è disponibile quella versione quindi intervengono anche in anticipo o forzano l'aggiornamento il remoto dei plugin perché WordPress ha già l'aggiornamento automatico delle minor e delle major sta a noi configurarla a seconda della nostra situazione consideriamo che WordPress ad oggi rilascia aggiornamenti fino alla 3.9 e oggi la stabilità è la 4.9 stiamo parlando di una release di almeno 5 anni fa con dire a rilasciare le minor di sicurezza questo è un lavoro che probabilmente a lungo termine diminueranno i rami perché è tanto lavoro di gestione quindi è meglio sempre avere attivato l'aggiornamento per la minor per dormire tranquilli che WordPress ve lo fa in automatico quindi poi basta che lo attivate come già prendete installate WordPress questo è già attivo lo potete disattivare se volete fare le cose a modo vostro ovviamente e poi la major pure sta sempre di base sta a voi configurarla come volete voi la major di base non è mai attiva voi potete forzarla secondo ovviamente dei vostri interessi vi consiglio la minor lasciatela così di base perché dormite perché dormite perché vi trovate già tutto il giorno con 20 email il sito x il sito x è stato aggiornato e voi siete felici perché sapete che quell'aggiornamento vi permette di dormire tranquilli quindi lasciate sempre gli attivi aggiornamenti e verificate sempre gli aggiornamenti però ecco queste sono secondo me le best practices di tenere d'occhio in un sito WordPress e la stessa cosa va al contrario per hackerare quindi se ci sono domande io sono qua vai no posso non mi ricordo se si possono attivare di base con una flag oppure con un plugin sicuramente si può fare però per i plugin è sempre meglio farlo manuale io spesso sui tipi grandi che hanno molto traffico li controllano gli aggiornamenti i change log tante volte è una major che cambia qualcosa nei change log viene scritto giusto per dormire per essere sicuri che l'aggiornamento potrebbe fare delle operazioni perché non si sa mai ovviamente i plugin vengono aggiornati spesso con una frequenza lenta o lunga cioè corta o lenta quindi per i plugin è meglio farlo a mano verificando quali sono gli aggiornamenti poi ci sono dei tool che permettono di gestire più siti in contemporanea premendo un pulsante e ve lo aggiorna tutti in automatico ce ne sono tanti più a risurdo che servizi però ecco è meglio non farlo dei plugin in modo automatizzato wordpress lo fa per quei plugin che hanno una riabilità di sicurezza molto grave loro lo sanno poi ti trovi l'aggiornamento però l'aggiornamento deve solo fixare quel bug specifico non è che è un rilascio di n000 bug fix è solo quel bug specifico in modo tale che l'utente può valutare o no quindi questo sì guarda io di solito quando aggiorniamo un sito spesso ho una copia su un altro server o il locale verifico il locale tutto quanto perché a me io non parlo in produzione perché non le puoi testare ad oggi si sa che la 5.0 avrà una sandbox per verificare gli errori PHP quindi da un plugin c'è un errore PHP che spesso ci deve al sito con una pagina bianca cosa che è successo un po' a tutti credo la 5.0 avrà un sistema che non fa caricare il plugin che ha il bug per dire quindi al momento non ci sono delle soluzioni di quel tipo è meglio farle vecchie a scuola la vecchia a scuola funziona sempre vai allora i plugin riconosciuti e certificati non ci sono perché WordPress non funziona così stanno lavorando adesso per un sistema tutti i plugin che sono su repository sono controllati riguardo le regole basi di sicurezza dedicate a PHP e WordPress quindi verificano se ci sono cose non satinizzate quei problemi che ho detto prima insomma con un sistema automatizzato il punto è che questo probabilmente verrà messo in produzione la comunità sta lavorando c'è pure Google tra i sponsor per dire probabilmente per il rilascio della 5.0 ad oggi domani potete dirvi questo plugin non è molto sicuro perché ha 83 errori di stile che potrebbero essere uno di sicurezza uno di che non ha messo il tab non ho idea quello un domani nella 5.0 ci sarà sicuramente però è una cosa un po' a lungo perché hanno un repository che ha più di 50.000 plugin quindi non è che è uno ci sono altre domande mi trovate allo stellino dentro l'hackerspace in caso buon caldo grazie a tutti grazie a tutti Grazie.